Ciao da Apsim! Nuovo appuntamento con Propaganda Max, la rubrica che documenta la narrazione pro Allegri settimana dopo settimana, un podcast che potete continuare a seguire recuperando tutti gli episodi precedenti, non guardate l'Allegrentus, oggi Propaganda Max, tante cose, tantissime cose da dire, non ho idea di quanto tempo ci metterò anche in questa carrellata anche in questo episodio, allora cominciamo subito ricordandovi di iscrivervi, continuare a seguire, seguire il podcast, le altre playlist, mettere like, commentare e anche condividere questo video se lo ritenete utile e partecipare quindi con la condivisione, con le interazioni a questa inchiesta nel tempo, nel corso delle settimane, una sorta di inchiesta nel racconto del racconto, il racconto del racconto giornalistico in ambito Juve ma soprattutto in ambito Allegri e poi magari facciamo qualche piccolo estratto delle parti più significative per evitare che si possa perdere nei minuti. Cominciamo allora subito in questo 13 marzo, riepilogando quello che è successo in questa settimana dopo il risultato negativo contro il Napoli, dopo la sconfitta con il Napoli e nel frattempo prima e dopo il pareggio con l'Atalanta in attesa del Genoa in giorni decisivi, in giorni che potrebbero essere decisivi anche per la panchina della Juventus, chissà. Vediamo se la narrazione è cambiata, no, la narrazione è rimasta sostanzialmente dello stesso tenore, lo vediamo dalle prime pagine, c'è qualche cosa di interessante, di positivo. Comunque cominciamo con le prime pagine, con quella di Corriere dello Sport del 7 marzo, quindi ripartiamo proprio da dove avevamo lasciato e una prima pagina, ovviamente Pro Max, di nuovo grandi in due anni, il piano con o senza Allegri, si ignora il conto, l'incontro con Max a Champions certa, il rebus mondiale, il management della Juve sicuro di poter aggiustare i numeri nel giro di 24 mesi, decisiva la partecipazione al super torneo UEFA, resta da valutare la cifra d'ingresso a quello FIFA, però ecco l'incontro con Max, si ignora il conto, è però il piano con o senza Allegri, si apre qualche spiraglio il 7 marzo. Il 9 marzo, Gazzetta dello Sport, non con un riferimento testuale ad Allegri, ma con un riferimento di immagine che forse è anche più efficace, Juve spese in centro, la signora si prepara allo shopping, cosa c'entrano gli acquisti di calciomercato con Allegri che è in bilico per la prossima stagione, che è comunque in discussione anche per quanto riguarda l'eventuale rinnovo, questa associazione di immagini diciamo che sarebbe stata evitabile. Sempre il 9 marzo, Corriere dello Sport in alto a destra e un altro chiesa, Max può chiuderla, domani la sfida Juve-Atalanta, Fede si è rilanciato con il gol di Napoli, in questo finale di stagione si gioca Contratto ed Europei, lui si gioca Contratto ed Europei, Allegri va a caccia, ah no va a caccia della vittoria per blindare la Champions, eh com'è finita? Com'è finita? Ha blindato la Champions? Lo vedremo magari nei prossimi episodi. Sempre il 9 marzo anche Tutto Sport, i figli di Gasp per il dopo Max, quindi al di là che si tratti di veramente figli di Max o no figli di Gasp o no Palladino, Tudor, Tiago Motta, c'è un dopo Max, c'è un dopo Max, quindi segniamo anche questo dettaglio davvero importante. Domani Juve-Atalanta, sfida tra idee di calcio diverse, tra allievi di Gasperini piacciono, tre allievi di Gasperini piacciono ai bianconeri in caso di divorzio con Allegri, in caso di divorzio con Allegri, Tiago Motta, Tudor, Palladino, insomma spiraglio di luce anche in questo caso. Quindi se la narrazione per certi vidi, per certi aspetti è rimasta uguale pro Max, vediamo che qualche cambiamento si è fatto sentire, si è potuto registrare anche prima del pareggio con l'Atalanta. Il 10 marzo, Corriere dello Sport, più o meno a metà pagina, Max che occasione, il futuro è della Juve, Allegri sfida l'Atalanta, questa è la prima pagina di domenica, giorno della partita, con una vittoria può blindare la Champions, un'altra volta, e mandare Gasper a meno 14, c'è Milik con Chiesa, Scamacca e Vittolari, anche qui Max, cioè proprio lui, Allegri sfida l'Atalanta, Max che occasione, con una vittoria può blindare lui proprio, quindi evidentemente ha giocato Allegri e quindi è stato Allegri che ha pareggiato e non i giocatori. Ma il giorno dopo che succede, Gazzetta dello Sport, 11 marzo, poco Allegri. Eccoci, eccoci, finalmente qualche prima pagina un po' critica, ecco, per gli appassionati, seguaci, sostenitori, fedelissimi di questa rubrica, cominciano le prime pagine critiche, cominciano nella settimana di metà marzo. Poco Allegri, la Juve non vince più, pari con l'Atalanta, Max, 6 punti in 7 gare, sempre Max, deve cambiare marcia, ecco, finalmente tocca a lui fare qualcosa, finalmente tocca a lui fare qualcosa, dopo che si è fatto quello che si è fatto, è stato quello che è stato, tocca a lui, finalmente ha qualche colpa, responsabilità e deve intervenire, è qui, miracolo, direi miracolo, gridiamo al miracolo, mentre Corriere dello Sport, sempre l'11 marzo, a parte titolo discutibile, passa alla Coppa, pari dell'Atalanta a Torino, stavolta l'Atalanta ha fatto tutto da solo, non ha giocato Allegri, pari dell'Atalanta a Torino. Il Milan soffia il secondo posto alla Juve, non ad Allegri, i due gol dell'olandese obiettivo di mercato frenano Allegri, quindi è stato frenato, quindi Allegri è stato frenato dai due gol di Coopminers, non dalla disorganizzazione, dagli errori, assolutamente, poi si parla di Juve tra presente e futuro nell'editoriale di Ivan Zazzaroni, che leggiamo dopo, apre Coopminers nel secondo tempo, Cambiaso e Milik ribaltano, Gasperini, insomma, alla fine, fondamentalmente Allegri che doveva scendere in campo lui contro l'Atalanta per vincere e blindare la Champions, viene frenato dal Coopminers, però è il Milan che supera, è la Juve che viene superata dal Milan e l'Atalanta ha pareggiato da sola. L'11 marzo ancora, anche tutto sport, cita Allegri in prima pagina, vagamente in negativo, vagamente in negativo come Cazzetto dello Sport, Juve e Allegri, il grande bo, poco gioco, poco gioco, finalmente si sono svegliati, solo fiammate, difesa in tilt e ora è terza, quindi conta anche ovviamente la classifica, Coopminers firma il 2-2 dell'Atalanta, ma uno così non ci manca, avrebbe detto Allegri, scavalcato dal Milan, il tecnico sottolinea il punto guadagnato sul Bologna, però la sua squadra in piena crisi anche di risultati sembra non avere un futuro, quindi incredibile, per la prima volta su tutto sport, qui scatterebbe l'applauso, per la prima volta su tutto sport non ci si limita a riportare quello che ha detto Allegri, ma lo si pone in una luce critica, lo si mette in qualche modo in discussione, forse non ha ragione a prescindere nella narrazione della prima pagina, poi vedremo anche nelle pagine interne, ma restando ancora sulle ultime due prime pagine, quella di ieri di tutto sport, l'ho già commentato, ci ho fatto un video già abbondante, così come sull'articolo interno, che comunque andiamo a rileggere, commentandolo molto meno, pazienza infinita, al di là dei pregiudizi dei no max, il popolo Juve si interroga su Allegri, su tre anni deludenti e sul futuro, allenatore e squadra non riescono più a nascondere dietro i risultati i limiti di gioco, qualità e personalità, ora anche la comunicazione del tecnico infastidisce i tifosi e l'insoddisfazione cresce, mentre la società aspetta, quindi si sono svegliati, finalmente si rendono conto che i punti erano appiccicati con la saliva, che non c'era gioco, quindi lo ammettono che queste mancanze ci sono sempre state, ma sono state nascoste evidentemente dai punti. La pazienza è quindi una questione di pazienza che è finita a un certo punto, come se quella prestata finora fosse stata legittima e meritata, però si parla ancora di pregiudizi nei confronti di Allegri, nonostante tutto quello che stanno ammettendo adesso è stato detto per anni e quindi si è sempre avuto ragione, ma per anni hanno cercato di screditare e di zittire. Prima pagina di Corriere dello Sport di oggi invece, 13 marzo, e questo è interessante perché si va al Mondiale per club, piccolissima parentesi con cui apriamo il segmento successivo, ci va la Juve, però Napoli fuori dalla Cepsi, Allegri al Mondiale, Allegri va al Mondiale, Allegri ha un contratto fino al 30 giugno 2025, il Mondiale per club finisce il 13 luglio 2025, come possa Allegri andare al Mondiale? Al di là che ho dimostrato sul mio secondo canale, non è manco merito suo, anzi è più merito di Sarri e Pirlo messi assieme e a parità di punteggio vale di più quello che ha ottenuto Pirlo perché l'ha ottenuto in un'unica stagione, mentre Allegri ce l'ha messa due, però comunque per Zazzaroni, per Corriere dello Sport è Allegri che va al Mondiale. Lasciamo le prime pagine e restiamo un attimo nel segmento mondiale per vedere che Sky Sport incredibilmente utilizza un'immagine sensata, giusta, Vlauic che esulta, quindi il giocatore più rappresentativo, un calciatore, la squadra, perché è la Juventus che è qualificata al Mondiale per club 2025, non dello stesso avviso Goal.com che prende già il sorriso è quello che è, già la foto è quella che è, l'hanno anche ribaltata specularmente per metterla sul lato sinistro e comunque hanno messo Allegri. Poi un'esultanza di gruppo, quindi Allegri va al Mondiale perché c'entra Juve qualificata però poi mettono la foto di Allegri, che non c'entra nulla perché potrebbe non esserci lui e tra l'altro non è neanche merito suo, anzi se fosse stato per lui, anzi ha costretto la Juve a rischiare, ha messo la Juve in condizione di rischiare di non partecipare a causa della pessima Champions dell'anno scorso, che ricordiamo è una responsabilità enorme di Allegri, non c'entrano nulla tutti i cataclismi e tutto il resto. Restiamo su X per fare una carrellata di cose interessanti e condivisibili e meno. Pistocchi per esempio l'11 marzo scrive, quando vinceva di corto muso 10 partite 30 punti con al massimo un gol di scarto e giocando quasi sempre un calcio mediocre i soliti maestrini dal pensiero debole conta solo il risultato, esaltavano il pragmatismo di Allegri e ipotizzavano il sorpasso sull'Inter. Adesso che la Juventus ha una media punti da retrocessione, 6 punti in 7 partite, solo Salernitana, Frosinone, Lecce e Sassuolo hanno fatto peggio e con 11 gol subiti in 7 partite alla sesta peggior difesa della Serie A e dopo 50 giorni dal 3-0 al Sassuolo e a meno 17 punti dai nerazzurri, sento dire che finora ha overperformato per merito di Allegri e che questa è la sua dimensione. Insomma, se vince è merito di Max, se non vince è colpa dei giocatori e di gioco non si parla mai. Qui ci sarebbero 92 minuti di applausi, facciamo che li abbiamo fatti, se no non andiamo più avanti, ma cosa aggiungere a quello che dice Maurizio Pistocchi? Nulla, per quanto mi riguarda è condivisibile al 101%. Anche Pedullà la tocca piano e dice giusto, abbiamo fatto una buona partita, abbiamo guadagnato un punto sul Bologna, non sembra ma questo risultato vale molto, il soggetto è sottinteso, ognuno è libero di fare come gli pare, ma dovrebbero ridare uno spessore fortissimo a questo concetto, allenatore della Juventus. E anche qui altri 92 minuti di applausi anche per Raffreddo Pedullà e Juventino Pedullà? No. E Juventino Pistocchi? No. Vuoi vedere che i noi Juventini riescono ad essere più lucidi, a dire cose più sensate e condivisibili pro Juve di quello che riescono a dire gli Juventini, al netto che molti che si fanno passare per Juventini in realtà sono sempre stati anti-Juventini o non-Juventini, ma siccome difendono Allegri sembra che tifino Juve. Lasciamo la risposta e andiamo in un segmento tutto dedicato a Mirko Nicolino che sta settimana ha avuto la tastiera bollente. Kulusevski, ecco, ci facciamo leggere, facciamo che sia Nicolino a leggerci, a riportarci quello che ha detto Kulusevski, di cui pure vi parlo in un video sul mio secondo canale Apsimout, perché è un bel contrappasso che proprio Mirko Nicolino ci debba parlare di Kulusevski. A The Players' Tribune, Erano sei mesi che non giocavo titolare una partita alla Juventus, ti senti malissimo perché hai dato la vita per giocare a questa partita, allenandoti più duramente che puoi e finisci per guardare compagni giocare nel tuo ruolo che non sono nemmeno ali. Onestamente mi sono sentito imbarazzato, persino inutile, alcune persone cominciarono a dire che non ero abbastanza bravo, che ero troppo lento. So che la sensazione è di aver fallito alla Juventus, beh, penso che sia una cosa strana da dire quando ho vinto due trofei, ho giocato entrambe le finali e ne ho decisa una con un gol e un assist contro la mia ex squadra, l'Atalanta. Si può dire quindi che Allegri ha distrutto Kulusevski, visto che gli preferiva Bernardeschi, Quadrado e persino Rabiot e McKennie esterni, oltre a mettere fuori ruolo pure Chiesa, che pure giocava poco. Kulusevski quasi mai titolare, due partite solo da 90 minuti, un sacco di spezzoni e spezzettini e spezzatini, a un certo punto ha dovuto scappare, dice in un'altra parte di questa stessa lettera ai tifosi del Tottenham, che appena gli hanno detto ti vuole il Tottenham, ha chiesto solo a che ora è il prossimo aereo. Se ne è scappato dalla Juve, possiamo dire che Allegri ha distrutto Kulusevski e quindi ha fatto un danno alla Juve, perché oggi Kulusevski sarebbe stato un validissimo giocatore per la Juventus se non fosse stato per le colpe di Allegri. Si può dire, ce lo facciamo dire da Mirko Nicolino, che però su Sarri dice, prima di fare considerazioni ardite io consiglierei di attendere i motivi delle dimensioni di Sarri. Sì, è vero, dobbiamo anche attendere i motivi, ma le considerazioni ardite quali sarebbero? Che Sarri è un vero uomo? Dà fastidio sentir dire che Sarri è un vero uomo e che ha avuto la dignità di dimettersi al di là delle motivazioni? Ci sono allenatori che si dimettono e allenatori che non si dimettono mai. Eh, ci sarà un motivo, Dio santo Dio. E se Sarri si è dimesso, onore a lui, poi le motivazioni possono modificare un attimo quello che è il giudizio, ma resta il fatto che c'è chi si dimette e chi invece non ha una dignità. Mirko Nicolino però ci dice anche qualcosa di interessante su Allegri, cioè non è tutto pro max, anzi, se penso a Massimiliano Allegri oggi, diceva l'11 marzo, l'immagine che mi viene davanti agli occhi è quella di un uomo in un vicolo cieco davanti a un muro di cemento armato di 7 metri. La via d'uscita è una sola, immaginate un po' qua, stanno crollando le resistenze, stanno crollando le resistenze anche perché guardate, guardate Mirko Nicolino, il 10 marzo dopo il pareggio con l'Atalanta, Juve prendi Tiago Motta, siamo veramente alla folia, cioè voi avreste mai immaginato un post del genere da parte di Mirko Nicolino? Io no e quindi iniziamo a vedere la luce e a respirare un profumo d'aria fresca, Juve prendi Tiago Motta, poi bisogna vedere per fare cosa, ma immaginiamo per fare l'allenatore, ancora e chiudiamo con Mirko Nicolino che invece prima della partita, anzi è proprio al fischio d'inizio, subito Cori per Massimiliano Allegri dalla curva bianconera e uno striscione, solo tu mille e più, mitico Allegri. Non ci sono post di Mirko Nicolino invece sui fischi di ben più tifosi nei confronti di Allegri della squadra, ma sul discorso striscione e fischi ci arriviamo più tardi, verso la fine notiamo soltanto una spereguazione nel racconto rispetto a questi episodi e ribadisco che i curvaioli, sedicenti tifosi della Juventus hanno celebrato Allegri anche per dei punti, circa 300, conquistati da Allegri contro la Juventus come allenatore del Cagliari e del Milan. Complimenti agli Juventini, complimenti agli Juventini. Restando un po' su X andiamo al segmento capuano che non poteva mancare, anzi no c'è prima, no ho sbagliato, c'è prima Giovanni Albanese, c'è prima Giovanni Albanese poi abbiamo il segmento capuano. La Juventus nelle ultime sette partite ha perso 15 punti, ha fatto peggio di squadre che lottano per la salvezza, la sensazione dall'esterno è che non ci sia più il fuoco che teneva viva fino a due mesi fa la voglia di migliorarsi, serve un atto di responsabilità da parte di tutti. Allora abbiamo parlato diffusamente di Giovanni Albanese che si è prestato ad un confronto su altri canali, che sta parlando con i content creator e con i tifosi che si sta riallineando, ma ribadiamo un concetto, quello che Albanese definisce fuoco che teneva viva la voglia di migliorarsi non è mai esistito, non c'è mai stato, è stato frutto di una totale invenzione, di una totale invenzione giornalistica portata avanti da Albanese, da Nicolino, da Capuano, da tanti altri che vi ho mostrato in questi episodi, andate a recuperare, recuperiamo gli episodi precedenti e c'è tutto lì, è tutto raccontato. Ogni settimana si inventava qualcosa di positivo per sostenere Allegri e la Juventus, ma sostanzialmente per sostenere Allegri e difenderlo da potenziali critiche. Poi l'intento quale fosse non lo possiamo sapere, se c'era buona fede o mala fede, ma questa voglia, questo fuoco non c'è mai stato, si è giocato malissimo da tre anni e per tutta quanta questa stagione in particolare, con un sacco di giocatori tutt'altro che valorizzati. Ora, che serva un atto di responsabilità da parte di tutti, giornalisti per primi, siamo felici, ma che lo si dica, serve un atto di responsabilità da parte di Allegri, che faccia un passo indietro come Sarri, si farebbe voler bene, si farebbe quasi amare se si dimettesse. Andiamo al segmento Capuano. Allegri e i servi, a che punto è il dibattito? Che punto deve essere il dibattito. Andiamo a leggere il contenuto, perché questo è un articolo su Panorama. Il titolo è Risultati e basso profilo, Allegri depresso, non serve alla Juventus. Questo ve lo leggevo in live. Lunedì nel dibattito Allegrentus, i bianconeri sono in rottura prolungata, il tecnico si barrica dietro alla corsa per un posto nella Champions League, ma parte delle responsabilità per il crollo di prestazioni è anche sua, parte è anche sua di responsabilità. La brusca frenata della Juventus nel cuore dell'inverno, 6 punti, 7 partite pure col fiatone, ha riportato i bianconeri più vicini alla dimensione reale della rosa rispetto ai mesi del duello scudetto con l'Inter, cioè rosa scarsa. Solo i critici a prescindere, servi del proprio pregiudizio, possono insistere sul fatto che al record del Monte Engaggi corrisponda a una presunta e mai dimostrata superiorità quantitativa e qualitativa degli uomini a disposizione di Allegri per correre in questo campionato. Quindi il fatto che siano pagati di più non aumenta il valore e neanche le responsabilità. Deduciamo che Capuano sia pagato pochissimo, visto che è così bravo come giornalista. Poi ci sono numeri e circostanze che riportano il dibattito alla realtà dei fatti, perché quello che piace a Capuano è la realtà dei fatti. La Juventus battuta a Napoli, extremist, era la più giovane dell'ultimo trentennio, con un'età media poco superiore ai 26 anni e quella fermata dall'Atalanta è partita a centrocampo con Cambiaso. Miretti e Iling Junior e con in panchina un'infornata di ragazzini, ragazzini, ragazzini. Gasperini non avrebbe fatto cambio e nemmeno uno tra Inzaghi, Pioli, De Rossi, Sarri, Italiano e Calzona per restare alla parte sinistra della classifica. Starosa scarsa di ragazzini, non la vuole nessuno. Anomala era la Juventus in lotta con l'Inter. Anomala, perché la Juventus non ha mai lottato con l'Inter e non lotta per lo scudetto. Avete visto cose che non sono esistite. Insomma, non quella che vivacchia tra secondo e terzo posto. Quella è la normalità. Ma questi sono insulti alla Juventus? È il rispetto per la Juventus questo? Come lo vogliamo definire? Per esaltare Allegri? Per difendere Allegri? I critici ribattono che senza Coppe Europee e non nel piano del caos societario, questa squadra ha un punto in meno rispetto a quello del 2023, ma servi del proprio pregiudizio. Omettono di ricordare come rispetto a quella sia anche depotenziata dagli aditi di Maria, voluto da Allegri. Quadrato, voluto da Allegri. Dall'assenza forzata di Fagioli e Pogba, che l'anno scorso c'è mai stato, omettendo di citare Bonucci e anche Paredes. Insomma, meno forte causa un mercato condotto all'insegna delle cessioni per cercare di limitare i danni economici. Messe in fila i numeri, però non si può non ragionare su quello che sta trasmettendo Massimiliano Allegri in questa fase della stagione. Il pragmatismo dell'autunno ha lasciato spazio a un triste low profile che si scontra con quanto questa stessa Juventus depotenziata ha comunque mostrato di poter fare. Perso lo scontro diretto con l'Inter, è crollato il castello emotivo che teneva in piedi tutto e il tecnico sta affaticando a restituire identità e motivazione a un gruppo di cui non si capisce in campo quale sia il piano partita. Quindi è il gruppo che non ha il piano partita, non è l'allenatore che poverino sta facendo fatica perché tutto si è rotto quando si è perso con l'Inter. Incassare con la ripetizione su situazioni di schemi di palla inattiva non preparati non fa fare bella figura a nessuno. Allegri prima di tutto, quindi povero Allegri che non fa bella figura. Attaccare in maniera estemporanea come se non c'è fosse un modello da seguire nemmeno, cosa che si fa da mesi, finalmente Capuano si è svegliato. Ostinarsi a definire buone prestazioni e performance appena sopra o sotto la sufficienza crea, cioè quello che ha sempre fatto Capuano, che hanno sempre fatto tutti per difendere Allegri, crea un senso di disorientamento così come fare il conto alla rovescia dei punti che mancano per toccare la fatidica quota 70 che vale il ritorno in Champions League. Era il mandato richiesto dalla società a inizio stagione e Allegri ha fatto bene a ricordarlo, Allegri ha fatto bene, nel momento in cui tutti spingevano peraltro, pazzi, pazzi, la Juve non deve fare altro che fare il quarto posto, ma c'è modo e modo di arrivarci e quello invernale non è accettabile. Il futuro pesa, la sensazione di precariato e di dibattito aperto a tempo indeterminato tra conferme illazioni pure. Le parole di Giovanni Branchini, agente di Allegri che ha attaccato la dirigenza, hanno segnato un punto di non ritorno spalancando il vaso di Pandora. L'Allegri out non è più solo un tema da social ma un evidente topic interno alla dirigenza. Prima si chiarisce, meglio è, prima si chiarisce l'idea, anche il Capuano meglio è perché i numeri sono ancora dalla parte di Allegri, i numeri sono dalla parte di Allegri, ecco. A volerli leggere con distaccata onestà intellettuale che Capuano può vendere tranquillamente, tanta che ne ha, ma la china presa dalla stagione giuventina è da fine regno con caduta dell'imperatore e rischia di far gettare al vento quanto seminato prima, cioè nulla o al massimo frutti marci. Non abbiamo neanche finito con il segmento Capuano, c'è ne un altro, però è fantastico. Cioè dice un po' tutto e il contrario di tutto, ma fondamentalmente difende Allegri. Allegri ha fatto bene, Allegri fa brutta figura, poverino. Allegri non riesce con questo gruppo che non ha idee, ecco. Poi si gioca male, l'andazzo non va bene, cose che si potevano dire anche molti mesi prima, evitando di costruire questa propaganda allegriana, questa propaganda maxi di sostenere l'allenatore, mettendolo maggiormente in difficoltà, visto che sarebbe il loro lavoro di giornalisti e quindi forse la Juventus si sarebbe salvata e liberata prima. Ma appunto chiudiamo con Capuano perché poi Pasalic distrugge, infatti ci arriviamo poi su Pasalic, Pasalic distrugge Allegri però Capuano che non lo sapeva, non lo poteva immaginare, ecco cosa dice. La Juventus ha incassato per la seconda partita consecutiva, un gol da palla inattiva con schema studiato a tavolino dalla squadra avversaria. Allegri responsabile, ma possiamo anche discutere di giocatori incapaci di leggere la situazione che si crea, possiamo discutere anche, Capuano responsabile di questo post, ma possiamo discutere anche di giornalisti incapaci di leggere, scrivere, capire, incapaci nel parlare di calcio eppure ne parlano, per esempio. E appunto su Pasalic, meno male che c'è Fabio Ravezzani che tra un post pro Allegri e uno contro Allegri, diciamo che non si fa mancare nulla, screenshotta piuttosto male, la prossima volta direttore possiamo anche ritagliarlo, screenshot, così viene meglio. Tutto sport che dopo vediamo. Allegri, sentito Pasalic, schema Coup Miners, non riesce mai perché ci studiano, dice Pasalic. E Ravezzani commenta questa dichiarazione è una pietra tombale per Allegri alla Juve. Dopo la squadra sorpresa impreparata sul rigore del Napoli, la partita precedente, stessa situazione sulla pulizione dell'Atalanta, due partite su due. Non si vive di soli schemi, ma si muore se non si studiano quelli avversari. Ecco, soprattutto, e sottolineo, pietra tombale per Allegri alla Juve, un disastro, diciamolo, un disastro, una cosa inaccettabile, una cosa vergognosa. Ma visto che abbiamo mostrato tutto sport, entriamo nel lunghissimo segmento tutto sport con oltre 40 ritagli. È una cosa, però, tutto sport va a sopperire alle carenze di Corriere dello Sport e Gazzetta dello Sport che questa settimana ci sono andati leggeri e poi abbiamo un po' di altre cosette. Quindi questo è il segmento principale di questo episodio di Propaganda Max. Allegri, col Real era tutto fatto, disse di no con la borta nel cuore. Ripartiamo da dove avevamo lasciato le dichiarazioni di Branchini che dicono sta cosa con i tifosi del Real che esultano apprendendo la notizia da relevo cui Branchini aveva rilasciato questa dichiarazione. Venendo più vicino, invece, ai fatti di Juventus-Atalanta, insomma, ai giorni più recenti, troviamo anche Juve servono esterni da Champions, rivoluzione sulle fasce, tutti i nomi. Un tema trattato poi, come vedremo, anche da Gazzetta. Va benissimo, comprate chi volete, ma perché servono esterni da Champions? Perché quelli che ci sono non vanno bene. Che cos'ha UEA che non va bene? Che cos'ha Healing? Che cos'ha, ovviamente, anche Kostic? Che cos'ha Cambiaso? Che cos'ha? Evidentemente dopo qualche mese allenati da Allegri iniziano ad esserci dei problemi e bisogna comprare qualcun altro perché chi c'è non va bene. Il PSG mi chiamò per convincere Allegri, ma lui voleva la Juve e il Chelsea. L'ex tecnico Giovanni Galeone parla di Max e Gasperini in vista della sfida tra Bianconeri e Atalanta e svela alcuni retroscena sulla carriera del tecnico Bianconeri. Potevamo evitare di citare l'intervista di Nicolo Schira a Galeone? No, non potevamo evitare. Poteva Nicolo Schira evitare di intervistare Galeone? Sì, poteva, però ha deciso che non avrebbe potuto. E quindi nei ritagli, nel ritaglio andiamo a leggere anche cosa dice, a proposito di squadre impoverite pure la Juve di Allegri non è quella di qualche anno fa e risponde, Max non ha molta qualità tecnica a disposizione, nel senso che lui non ha, ah no no no, pensavo volesse dire che lui non ha molta qualità tecnica, no, invece si riferisce ai giocatori per sviluppare un certo tipo di gioco. Ha giocatori di forza e potenza come Chiesa quando sta bene e Kostic che ormai è fuori dal giro. Sugli esterni non ha gente che salti l'uomo facilmente, certo lo devono stare per fare da soli. E dotati di grande dribbling per creare superiorità numerica. Sul è, d'altra parte, meglio che vada al Frosinone, uno dei migliori per uno contro uno e dribbling in Europa, meglio che lo faccia al Frosinone. Evidentemente al Frosinone hanno a disposizione una qualità tecnica superiore. In mezzo gli manca un Totem, in passato l'ho martellato di prendere Vinicius Savic e Berardi perché gli servivano a giocatori del genere, per la Juve sarebbero perfetti Gnabri, Osaka ma costano. Ma sì, tanto paga Galeone. Ah no, non paga Galeone. Nel corso di un'intervista ancora dice, il pregio di Max è l'equilibrio e la tranquillità che mette nelle cose che fa, è sempre sereno, a volte sembra quasi quasi che se ne fotta. Difetto? Deve ammettere che qualche volta può sbagliare nelle scelte. Ogni tanto glielo dico sui campi, per carità sbaglia i campi, non gli allenamenti e le formazioni. Quella però era una sua specialità, dice Nicola Schira. Per anni ogni volta che faceva una sostituzione cambiava la partita e vinceva, adesso fa più fatica. D'altronde se in panchina hai giocatori meno forti di quelli che giocano diventa dura, trovare la svolta con i campi. Rischi di peggiorare, qui colpa dei giocatori. Ci dice Galeone, a cui viene dato tutto questo spazio, non dovuto, non richiesto su tutto sport. E dice, con le critiche come si fa? Eh non è facile per lui. Lo attaccano di brutto in questo momento, ma sei scudetti, non si vincono per caso. Sta puntando tanto sulla fase difensiva che è l'unico modo con questa rosa per arrivare alla vittoria. Sono scarsi. Non a caso adesso che in difesa sgarrano e iniziano a prendere diversi gol, sono venuti meno i risultati. Perché non è che nel frattempo li può allenare a preparare la squadra innanzitutto, ad evitare di prendere gol su schema da palle inattivo, ma magari anche ad attaccare per segnare di più. Cosa manca alla Juve per lottare per lo scudetto? Devono tenere Rabiot. Rabiot ce l'hanno, stagione squallida tra l'altro per rendimento, che devono fare per vincere, tenere Rabiot che già c'è. E aggiungere almeno quattro giocatori di quelli bravi per avvicinarsi all'Inter. Manca chi tira e segna da fuori area, un difensore forte, un centrocampista con golle assist nei piedi, un paio di esterni che saltino l'uomo. Solo così potrà far giocare la squadra più offensiva, che se no non si può fare, e portare tanti palloni in area a Vlaovic che alla lunga la butta dentro, anche se con Inter e Napoli si è mangiato qualche gol. Ovviamente quando c'era Di Maria, per esempio, c'era Paredes, c'era Di Maria, c'era Di Bala, quelli non andavano bene, c'era Kulusevski, quelli non andavano bene, bisogna comprare qualcun altro. Poi si parla tanto del no detto da Allegri e Real Madrid, Max è rimasto la Juventus nonostante avesse richieste molto allettanti. Quando ha rifiutato il Real Madrid l'ho chiamato e gli ho detto ma come cacchio fai? Negli anni scorsi ha detto no a Chelsea e Paris Saint-Germain, ma sì, tanto. I francesi mi avevano chiamato per provare a convincerlo, ma non c'è stato niente da fare. Pensate, i francesi che chiamano, chi possiamo chiamare per convincere Allegri ad accettare il Paris Saint-Germain? Galeone, chiamiamo Galeone. Lui voleva stare alla Juve. Al di là di tutto i tifosi dovrebbero apprezzare la scelta di rimanere in un momento tosto per il club in cui era rimasto da solo. Dovremmo apprezzare, i tifosi dovrebbero apprezzare che Allegri è rimasto in un momento di difficoltà creato da lui. Poi c'è stata la questione giudiziaria e societaria. Nel gioco si può certamente migliorare anche grazie agli interventi sul mercato, tipo cambiare l'allenatore. Perché alla fine contro i calciatori gli allenatori sono importanti. Quando sbagliano nel fare danni, le partite le decidono i giocatori, quindi servono i giocatori, allora a che serve Allegri? A cosa serve Allegri? A nulla. Allegri rimarrà alla Juve e gli chiedono infine, lo sento molto sereno, stanno portando avanti il progetto giovane con ingaggi ridotti tra nel suo e quello di Rabiot. Un piano scelto dalla società è sposato in pieno da Max che infatti non ha rinunciato a un euro. Se si qualifica la Champions League ha fatto bene e centrato il traguardo richiesto. Così lo decide Galeone. Oggi il divario con l'Inter è però troppo ampio, per lo scudetto servono rinforzi. Per esempio un altro allenatore. Lasciamo Galeone ma non tutto sport. Juve il dopo Allegri in una lista analogie e differenze tra i figli del Gaspo. L'abbiamo visto prima in prima pagina. Nel dettaglio cosa troviamo di interessante? Che esiste un dopo Allegri. Allegri è il futuro. Una cosa è certa, l'eventualità di proseguire nel rapporto con Allegri. Con un eventuale rinnovo del contratto significherebbe scontentare una parte della tifoseria che vede come ormai esaurito il ciclo allegriano. In realtà non ha mai iniziato. Una storia d'amore molto lunga, non per nulla Allegri è secondo solo a trapattoni per numero di panchine bianconere davanti a un monumento come Lippi sempre perché ha fatto delle panchine di troppo che non avrebbe meritato di fare perché non è stata esonerata a tempo devito. Piaccia o meno il tecnico livornese nell'universo juventino da dieci anni, cioè da quando era subentrato in fretta e furia a luglio 2014 dopo il tumultuoso addio di conti, quindi anche tutto sport. Disconosce le stagioni intermedie di Pirlo e Sarri che avrebbero portato tre torfei domestici e anche due ottavi di finale comunque giocati che non sarebbero da buttare oltre ad un gioco magari più apprezzabile però ecco vedete come si dice tutto il contrario di tutto, i tifosi non sarebbero contenti ma piaccia o no Allegri è nella storia e che ce ne facciamo? Portatelo al museo. Proseguiamo, anzi no c'era ancora un altro pezzetto di questo articolo. In cinque anni Allegri ha conquistato altrettanti scudetti e ha raggiunto due finali di Champions, tutto da solo, tutto da solo, quindi tutto sport lo sa benissimo che i calciatori non esistono alla Juve. Poi ci sono stati due anni di vuoto senza legarsi ad altre squadre perché insomma perché amava la Juve in attesa di una nuova chiamata arrivata nel 2021, forse perché lo sapeva perfettamente che sarebbe stato richiamato. Il secondo atto dell'Allegri allenatore juventino non è paragonabile al primo considerando che i titoli in bacheca sono rimasti fermi nella stagione di Pirlo, ma solo per questo, solo per i titoli, è solo per i titoli e non anche per le prestazioni e quindi il contenuto del gioco. Ancora tutto sport riporta una breaking news di Ansa, calcio, Allegri, al momento Juve ha raggiunti gli obiettivi, così il 9 marzo, quindi nella sofferenza stampa pre-Atalanta, al momento ha raggiunti gli obiettivi perché gli obiettivi erano quelli di fare schifo e quindi si è raggiunto l'obiettivo di fare schifo. Poi abbiamo Porrini perché tra tante voci, però Allegri abbiamo anche qualcuno che dice un po' le cose diversamente, tra Lippi e Allegri non c'è paragone, ma va? Noi attaccavamo, e anche c'è un motivo ben preciso per cui non c'è paragone, noi attaccavamo, l'ex giocatore bianconero ha presentato la sfida contro l'Atalanta analizzato, insomma, in un'intervista a Porrini, visto che è un doppio ex, cosa dice? Allegri come Lippi? Assolutamente no, come giudica finora la stagione bianconera. La Juve in un mese ha perso credibilità e solidità, mi aspettavo di più dei bianconeri, vero che l'Inter in assoluto della più forza sulla carta, e l'hanno poi confermato sul campo, e i razzuri fanno veramente un gran bel calcio, mentre le altre giocano al Ciapano. Juve, Milan e il Napoli hanno buttato, hanno bucato troppe tappe, per questo il campionato è già finito a marzo, tornando alla Juve, quando indossi quella maglia devi andare oltre le aspettative, non puoi accontentarti di un piazzamento tra le prime quattro, non puoi accontentarti di un piazzamento tra le prime quattro, lei ha vinto tutto con la Juve di Lippi e che molti hanno paragonato, che molti hanno paragonato ad Allegri, d'accordo? Assolutamente no, ad Allegri manca almeno un trionfo europeo, per accostarlo a Lippi, per accostarlo manca almeno un trionfo europeo, che ha vinto tutto Lippi, sicuramente entrambi sono bravissimi nel gestire i giocatori del gruppo, ma sul piano del gioco c'è una grande differenza, la nostra Juve giocava un calcio d'attacco, mi aspettavo di più dal suo ridò. Magliette di Porrini ne abbiamo, vogliamo farci personalizzare anche una maglia attuale, più recente, di Porrini, lo vogliamo portare in trionfo, il grande Porrini, che si differenzia da altri ex che invece dicono cose molto meno condivisibili. Restiamo su TuttoSport, che ne abbiamo ancora per un po', Allegri proposto, il Barcellona ha detto no, il profilo non convince, ci piace che TuttoSport ci dia questa notizia, che proprio TuttoSport ci dia questa notizia, la clamorosa rivelazione di mercato scuole del mondo dei tifosi bianconeri blaugrana, secondo questa ricostruzione la dirigenza Barca avrebbe bocciato Max, ma come si sono permessi, ma questa maleducazione, eh, Vaciago, hai visto quanti maleducati pure in Spagna, Vaciago, questi sono tutti maleducati, come si permettono di dire no ad Allegri, ma non capiscono nulla, veramente, veramente ingrati. Poi andiamo a vedere anche un po' più nel dettaglio un articolo oltre al titolo, Allegri la curva si schiera, Cori e Striscione prima di Juve Atalanta, poi recuperiamo anche qualche ulteriore ritaglio di altri giornali, il tifo organizzato bianconero ha esposto un messaggio inequivocabile nei confronti del tecnico della prima squadra, eh, i dettagli. Il tifo organizzato, eh, quattro gatti, diciamo quattro gatti, vediamo anche la foto messa in favore di inquadrature di telecamera, non è una cosa vastissima che coinvolga chissà quante persone, e quindi, però, vediamo come viene raccontata da tutto sport la questione Striscione e poi come viene raccontata eventualmente la questione Fischi. Solo tu mille e più in Menso Allegri, mille punti anche quelli contro la Juve, e questo è il contenuto dello Striscione srotolato pochi attimi prima del calcio inizio accompagnato da numerosi cori in favore del tecnico bianconero, numerosi cori. Il riferimento ovviamente ai punti ottenuti in carriera in Serie A da Max, precisamente mille e due, dopo il successo ottenuto contro il Frosinole due settimane fa, finora il DS Cristiano Giuttoli ha sempre speso parole al miele per il proprio allenatore, confermando almeno pubblicamente la fiducia nei suoi confronti anche per la prossima stagione, rimane il fatto che dal prossimo 30 giugno all'ex Cagliari e Milan rimarrà un solo anno di contratte, pertanto senza un rinnovo rimane al momento difficile ipotizzare la sua permanenza, ex Cagliari e Milan con cui ha conquistato punti, una parte di questi mille e due punti contro la Juventus. Allegri parte dello stadio non ci ha aiutato quando siamo andati sotto, ecco quindi c'è anche un riferimento ai fischi, il riferimento ai fischi non proprio esplicito, un po' implicito come titolo di tutto sport per riportare poi le dichiarazioni di Allegri post partita, quindi come vedete c'è una bella differenza tra riportare lo striscione a inizio partita, durante la partita e i fischi dopo la partita, lo si fa in maniera assolutamente riflessa ed indiretta. Però poi troviamo un articolo, un articolo che può essere interessante di Stefano Lanzo, Allegri e la spaccatura Juve allo stadio tra striscioni svolta e capolinea, quando l'arbitro guida fischiato alla fine del primo tempo dalle tribune sono arrivati fischi, in parte coperti dalla reazione della curva scirea, dalla sud solo sostegno e applausi, chissà come mai in curva la pensino in maniera completamente diversa, ammesso che siano in grado di pensarla in maniera diversa. Non serviva la partita di ieri sera con l'Atalanta per scoprire quanto Massimiliano Allegri sia una figura per così dire divisiva all'interno dell'opinione pubblica bianconera, ma la spaccatura all'interno della tifoseria tra chi ancora sostiene Allegri e chi invece vorrebbe un cambio di gestione è emersa in maniera chiara all'Allianz Stadium a metà gara quando il signor guida ha fischiato alla fine del primo tempo, dalle tribune sono arrivati fischi, in parte coperti dalla reazione della curva scirea. Dalla sud solo sostegno e applausi per la squadra e soprattutto per Allegri, contatto di striscione sui mille punti, in bianconero superati e Corri ad Occa ai quali l'allenatore ha prontamente risposto con un saluto, ovviamente un saluto non punibile dal punto di vista penale, ci mancherebbe. Juve tifo diviso in due, c'è dunque una spaccatura che a questo punto è riscontrabile non solo sui social, a questo punto ben svegliati tutto sport, benvenuti nella realtà, ma anche in un teatro rimasto, cioè sono loro che hanno detto che era solo sui social, ma anche in un teatro rimasto finora piuttosto neutrale come lo stadio, i fischi vanno avanti da mesi, anche a fine gara dopo il 2 a 2 si è sentito qualche fischio, mentre dalla sud non è mai mancato l'apporto e la divisione all'interno dell'opinione pubblica gioventina rischia di diventare ancora più netta se non ci sarà una svolta, anche se per qualche tifoso l'avventura di Allegri è arrivata al capolino a dirà di obiettivi e contratti per qualche tifoso, per qualche tifoso evidentemente è più di qualche. Allegri sentito Pasa, dice questo, lo screenshotava il direttore Ravezzani, schema Cup Miners non riesce mai perché ci studia, il centrocapista dell'Adea ha spiegato ad Asson, aggiungo, l'azione del primo gol contro la Juve firmato dal centrocapista olandese dopo uno schema su calcio di punizione, gli altri avversari ci studiano, Allegri aveva altro da fare, una settimana intera libera, l'Atlante è dovuta andare a Lisbona per fare l'Europa League, eppure è riuscita a fare due gol, una prestazione comunque migliore rispetto a quella della Juve, anche se nulla di straordinario, preparando anche lo schema e portandolo a termine. Poi troviamo, troviamo Vaciago. Vaciago, Juve e Allegri, il grande bo, non si capisce più cosa sia questa squadra, non si capisce più cosa sia questo giornalismo, non si capisce più cosa sia questo tutto sport, sparito lo spirito del giro d'andata, inventato da tutto sport e altri giornali, restano la confusione, le improvvisazioni dei singoli e non è neanche più cattiva. Cosa ci dice il direttore? Non si capisce più cosa sia questa Juventus, signora mia, non ci sono più le vecchie stagioni. Per la prima parte della stagione c'era almeno una squadra, cioè un gruppo di pirati brutti, sporchi, ma cattivi pirati, che non concedevano nulla allo spettacolo e all'avversario. Ma quando mai? Si deve far passare questa cosa, ma non risulta comprovata questa interpretazione. Vincevano creando una massimo due occasioni da gol e poi combattevano strenamente fino a diventare imperforabili, quindi voglio dire che non concedevano nulla, anche no. Quella Juventus è perfino andata in testa alla classifica, è andata in testa alla classifica, con l'asterisco è andata in testa, vabbè, primato effimero perché l'Inter non giocava, cioè è andata in testa alla classifica, ma testimone di una certa competitività del progetto agonistico bianconero. Quella squadra è sparita un mese e mezzo fa, nel periodo nel quale la nuova Juventus ha racimolato sei punti in sette partite, vincendone solo una eppure in modo rogambolesco. Ah, quindi finalmente dipende anche come vinci le partite. Juve manca qualcosa sia a livello di giocatori che di idee tattiche, finalmente, finalmente. La Juventus di oggi, come quella di ieri, non si appoggia su uno spartito di gioco preciso, ma avendo perso la compattezza, sfilaccia la foga agonistica che ieri non è mancata come giustamente sottolineata Allegri, giustamente Allegri. Cioè, fino adesso Allegri cosa ha fatto di sbagliato in questo articolo? Nulla, anzi, ha detto una cosa giusta. In giocate estemporanee, improvvisando grazie a uno strappo di chiesa una trovata di McKennie. E siccome la Juventus è una coperta corta, quando aggredisce alta l'avversario e prova a giocare in modo più offensivo ieri, per esempio, sguarnisce la fase difensiva. Cioè, la Juve è una coperta corta. Cioè, tutte le squadre che fanno pressing alto alzano la difesa e riescono anche a non prendere gol, riescono anche a fare i clean sheets. Solo la Juve, se aggredisce alta, non riesce a rimanere sguarnita. Otto gol presi nelle ultime quattro partite, tra cui gol su piazzato, dove il baricentro non c'entra nulla. Insomma, è chiaro che manca qualcosa sia a livello di giocatori che a livello di idee tattiche. Ricordiamo che Vaciago e Tutto Sport, nelle settimane score, fino a qualche giorno fa, dicevano le cose tattiche irrilevanti, perché quello che conta è la grinta e la voglia. Juve, così si incassano i gol da Polli e senza lo spirito del giro di andata viene a mancare anche la concentrazione, la malizia, l'applicazione. Eccoci qui. Così si incassano i gol da Polli, come i due che ha segnato Kuhminers ieri. Il primo da uno schema che per detta di Pasaric non ci riesce mai perché ci studiano, il secondo proprio nel momento, e questa frase per Vaciago non basta per l'esonero immediato di Allegri, il secondo proprio nel momento in cui la Juventus era riuscita a ribaltare la partita e in modo inconscio ha fatto calare la tensione. Il crollo mentale avvenuto dopo la sconfitta di San Siro contro l'Inter è comprensibile, perché è venuto a mancare all'improvviso uno stimolo importante, serve lo stimolo per andare in bagno, ma non è ammissibile che abbia portato la Juventus a tenere una media da lotta per non retrocedere per sei settimane, anche perché molti dei giocatori della Rosa devono ancora dimostrare di essere da Juventus, molti giocatori non Allegri, e lo devono fare nella seconda parte della stagione. L'unico a dimostrare di meritarsi la Juve è stato Kuhminers, ieri l'unico a dimostrare di meritarsi la Juve è stato proprio Kuhminers, obiettivo di mercato è il castigatore bianconeri ma senza i soldi della Champions, ora non a rischio, ma continuando con la media di punti di 0,85 a partita potrebbe diventarlo, Kuhminers non è un affare possibile. E forse è per questo che Allegri lo ricorda ossessivamente come l'obiettivo da centrare. Fa bene, non significa abbassare le ambizioni della Juventus, ma ricordarsi che il club attraverso un momento critico e non prendere quei soldi sarebbe esiziale per il bilancio, per una questione di soldi, non per una questione di dignità, per una questione anche di futuro e di Allegri, diciamo di valutazione su Allegri. Più discutibile invece quando sostiene che una parte dello stadio non ha aiutato la squadra quando è andata sotto, è più discutibile, non è un'offesa gravissima. È vero, i tifosi dovrebbero sostenerla nella buona e nella cattiva sorte, ma in questo momento la pazienza è poca e perché ne è servita molta, moltissima, negli ultimi tre anni. Ecco, ecco, finalmente. E forse anche perché la squadra e il gioco non trascinano il pubblico e che nonostante tutto allo stadio si presenta sempre e pagando il biglietto. Qualche segnale di risveglio c'è, cioè qualcosa di sensato lo si riesce a leggere e a trovare anche negli articoli di Guido Vaciaco su Tutto Sport, ma sono sempre cose che sarebbero state volendo dette e dicibili e affermabili per anni, per mesi e invece sono state nascoste sotto i pregiudizi, i no max, quelli che ce l'hanno con Allegri a prescindere, questioni tattiche che sono irrilevanti, le prestazioni che non contano perché l'importante è vincere, la bellezza che non deve esistere, tutte cose documentate nella mia rubrica. Intanto si sveglia anche Ravanelli che a pressi mi dice che l'allenatore della Juventus non può dire una frase del genere, quindi Ravanelli ce l'ha con Allegri che ha detto vediamo, secondo me da un allenatore, da allenatore della Juve non può fare quelle dichiarazioni, ha sbagliato Max, non può dire che abbiamo guadagnato un punto su Bologna da allenatore della Juve, lui allena la Juventus, secondo me ha sbagliato, è un messaggio che secondo me deve mandare, non deve mandare neanche all'interno dello spogliatoio, oh che rinsavisci anche Ravanelli dicendo una cosa sacrosanta, ma abbiamo anche Briatore, abbiamo anche Briatore perché così all'improvviso chi vai a intervistare, c'è sempre qualcuno che viene intervistato in maniera inedita di settimana in settimana come potete riscontrare negli episodi precedenti di questa rubrica, questa settimana abbiamo Briatore, io spero che resti Allegri, che ha detto Allegri, ognuno fa fuoco con la legna che ha, non so se resterà la Juventus, può darsi che rimanga o non rimanga, io spero che resti perché è un gran professionista, così cioè non è questione cosa deve fare la Juve, cosa deve diventare la Juve, che gioco si vuole fare, quali sono gli obiettivi, no, l'importante è che rimane Allegri, Conte penso sia una minestra riscaldata, Conte e Allegri non è una minestra riscaldata, la Juventus né richiamarla nel 2021 né confermarla adesso, la Juventus è partita con l'obiettivo di essere tra le prime quattro e credo che ci riuscirà, se paragoniamo il nostro giocatore all'Inter c'è poca storia, perché c'è un problema di allenatore, quest'anno abbiamo fatto delle partite straordinarie, che partite ha visto Briatore? il 2-2 con l'Atalanta ci sta, ci sta, 2-2 con l'Atalanta ci sta, il campionato è un affare solo dell'Inter, penso sia una delle più forti di sempre, mentre la Juventus fa quello che deve fare, finendo tra le prime quattro, tra l'altro l'Atalanta è a meno 11, quindi 11 punti di distacco, però pareggiarci ci sta, cioè ci sta pareggiare con una squadra che ha 11 punti in meno, non vedo tutta questa tragedia, non vedo tutta questa tragedia, tanto alla fine Briatore che se ne frega, che gliene porta, brava l'Inter che ha fatto un campionato incredibile, cosa manca alla Juve? Il marotto della situazione, quindi fondamentalmente, cioè bisogna avere giocatori da Juventus o non abbiamo giocatori da Juventus ecco, quindi fondamentalmente anche in questo caso abbiamo una frecciata magari a Giuntoli e poi, e poi abbiamo un altro vaciago, quello che vi ho già commentato nel lungo video di ieri, Allegri e la crisi, Juve è ora di affrontare il problema, lo leggiamo senza ulteriori commenti vi rimando al video per questo, però ci sta comunque leggerlo di nuovo per intero anche qui discutere Max come allenatore dei Bianconeri in questo particolare momento storico è legittimo i tifosi e una crisi generale, meno male che vaciago ci dà la legittimità della critica discutere Allegri come allenatore, parere personale è una follia, spesso figlia del pregiudizio della convenienza, invece difendere Allegri non è conveniente senza polemica alcuna lascio questo esercizio a chi ci crede davvero e a quelli a cui evidentemente conviene riscrivilo senza piangere, viene da dire discutere Allegri come allenatore della Juventus in questo particolare momento storico è invece legittimo e non solo per i sei punti nelle ultime sette partite ma perché si tratta di una crisi più generale e non solo per colpa del popolo dei no max, perché sennò di solito sarebbe colpa dei tifosi la crisi c'è una generale frustrazione del popolo juventino, un senso di spostatezza dopo due anni e mezzo di delusioni brutte partite, alcune bruttissime, meno male che adesso si può dire illusioni evaporate già in inverno, i tifosi della Juventus sono un po' stufi anche di tutto sport forse, hanno dato fondo alle riserve di pazienza negli ultimi tre anni e hanno paura di doverne chiedere ancora altra in prestito Allegri il Titanic sportivo e cosa vuole la Juve? non dovrebbe esserci il bisogno di dire che non è solo colpa di Allegri anzi, nella scorsa stagione quando l'ingiustizia sportiva si è battuta sul club il tecnico ha tenuto a galla un potenziale di Titanic sportivo quindi lo critichiamo ma in realtà non è solo colpa sua e anzi è stato bravissimo ma in un'equa distribuzione delle responsabilità di questo triennio di delusioni non può non esserci una quota del tecnico e non può non esserci ora il divorzio non è l'unica soluzione, ci mancherebbe altro ma negare che il matrimonio sia in crisi non conviene a nessuno neppure la società che finora ha preso tempo confermando la fiducia all'allenatore in tutte le sedi ma vuole attendere la fine della stagione per parlare del rinnovo qui non si tratta di accontentare quelli che vogliono la testa di Allegri ma chiedersi cosa si vuole che sia la Juventus finalmente gli unici punti fermi sono una maniacale attenzione alla situazione economica e quando tutti si renderanno conto di che cosa ha subito il club in termini finanziari e in quali difficoltà deve nasce la ricostruzione sarà sempre troppo tardi dopo i disastri di Agnelli che è stato difeso e protetto da Vaciago nella sua narrazione e il progetto giovani il resto è un po' nebbioso certo sapere se ci sono i soldi della Champions ed eventualmente del mondiale ora lo sappiamo almeno per il mondiale fa molta differenza ma attenzione se in questo momento ha legato il parafulmine di tutta la frustrazione del popolo bianconero e direi che i no max sono il parafulmine di tutta la frustrazione di Vaciago simpaticamente e anche perché non c'è un sogno a cui lo stesso popolo possa aggrapparsi nella tempesta una prospettiva, un credibile e concreto progetto di rinascita con segnali tangibili qui in realtà Vaciago sbaglia perché un sogno e un progetto di rinascita c'è l'esonero di Allegri basta pensare alla passione perfino esagerata che ha suscitato Cana Lildiz perché bisogna avere passione smodata solo per Allegri non per i calciatori per capire qual è la condizione del tifoso juventino oggi alla ricerca di qualcosa di bello ed entusiasmante a cui affezionarsi un lampo bianconero nel mare grigiastro in cui galleggia la Juventus da troppo tempo ripeto la battuta la Juventus galleggia da troppo tempo in un mare grigiastro tutto sport in un mare marroncino che però è cioccolato proseguiamo ancora con qualche titolo di tutto sport poi c'è un altro articolo Juve in preparata sui calci da fermo Allegri non sono polli ma schemi da basket quindi qui fanno anche un'analisi in cui dicono ma non è possibile prendere il gol sul rigore da Raspadori e lì c'era lo schema e non l'hai saputo fare gol da Cubmeiner su punizione e lì c'era lo schema e non l'hai saputo fare quindi qualche critica nel merito tutto sport la riesce a fare ma non con Vaciago Juve e Allegri entusiasmo minimo i tifosi stanno esaurendo la pazienza leggiamo anche questo un estratto di questo articolo trofei che mancano da due anni risultati ma non è frustrante dice Max risultati non all'altezza e mai un'autocritica su gestione ed errori finalmente cioè dopo che per mesi mai un'autocritica poi arrivano alla fine a dire ma non ha mai fatto autocritica l'avessero detto prima una sola vittoria nelle ultime sette partite per un filotto negativo che riporta alla gestione del neri 2010-2011 i tifosi della Juventus faticano a resistere la pazienza è in riserva innanzitutto perché sono abituati a vincere spesso medicina trasversale capace di far digerire anche le partite giocate male ma che portano tre punti per disinfiammare così gli animi il problema è che le scorte di cortisone sembrano in esaurimento già una vittoria in sette partite è una media che appartiene a chi vuole evitare di retrocedere e non a chi come la Juventus cerca di chiudere al più presto la corsa ai primi quattro posti che regalano la partecipazione alla Champions League del prossimo anno un filotto così asfitti quando si vedeva in campionato dalla stagione 10-11 con del neri però anche proposto di gioco e mancanza d'autoridica sono i problemi il problema è anche la proposta di gioco stantia spesso troppo speculativa e non così brillante come invece si vede in altri liti ben svegliati finalmente stiamo a dirvelo da anni dove la materia prima non è superiore a quella a disposizione di Allegri figuriamoci cioè addirittura giocano meglio con meno giocano meglio con meno e quando lo dicevamo ci veniva detto che avevamo dei pregiudizi nei confronti di Allegri no non sono mai stati i pregiudizi erano argomentazioni meno male che vi siete svegliati questa crisi della Juve poi ha portato a un altro dato oggettivo che fa pendere al bilancio dalla parte di chi non ne può più di emozioni con il contagocce il confronto con la stagione precedente dice che c'è un punto in meno dopo 28 partite di campionato e nella scorsa annata davvero Allegri fece i miracoli non ci riescono proprio per impedire all'umore della squadra di salire e scendere dalle montagne russe che le sentenze della giustizia sportiva disegnavano con una tempistica imprevedibile cioè così non si riunivano neanche, non c'era neanche la data dell'udienza no un giorno, oggi è uscita una sentenza, ma come non c'era l'udienza, hanno deciso va bene, ce n'è dunque abbastanza ma l'elenco delle situazioni negative non finisce qui le dichiarazioni post partite di Allegri non offrono praticamente mai diritto di cittadinanza all'autocritica preferendo una narrazione autoassolutoria che se può risultare utile al cospetto della squadra all'esterno può risultare urticante e meno male poi abbiamo anche Stefano Capozucca così all'improvviso non vedo campioni nella rosa della Juventus, solo tanti buoni giocatori di chi stiamo parlando? è l'attuale direttore sportivo della Ternana ed ex Genua dove lanciò Gasperini, Juric Motta, Palladino e Gileardino ed esonerò anche Motta cioè uno che ha esonerato Tiago Motta viene intervistato su Allegri cosa dice? quando dicono che la Juve deve vincere lo scudetto tanti ripetono un luogo comune perché siamo abituati a vederla in cima quest'anno però l'organico non è così di alto livello per puntare alla vetta Allegri sta facendo un grandissimo lavoro lanciando tanti giovani la Juventus ha sempre avuto grandi giocatori di greve internazionale che ora mancano non vedo fuori classe in questa rosa l'essere stati quasi a livello dell'Inter per me si sottolinea il lavoro di Allegri può piacere o meno sul piano del gioco ma serve rispetto nel criticare cioè in pratica smettetela di criticare sui social la gente perde la testa anche sui giornali e leggo assurdità che sfociano nella maleducazione anche sui giornali la Juve non ha campioni solo tanti buoni giocatori così non si vincono i campionati ovviamente è maleducazione ma non è maleducazione dire che questi non sono campioni chi lo dice? Stefano Capozucca con tutto il rispetto questo per dire che tutto sport sta rinsavendo ma non ancora del tutto perché ci sono ancora queste incrostazioni evidentemente Allegriani io davvero sono disperato perché è tardissimo manca un sacco di roba allora però abbiamo quasi finito con tutto sport anzi abbiamo proprio finito questo è l'ultimo per mostrarvi la foto Champions Napoli K.O. a Barcellona Juventus al mondiale per club foto di Allegri con Alexandro che ghigna dietro un'altra foto tutto sport non ce l'aveva passiamo a correre dello sport che ci informa dello striscione ma non dei fischi Juve Allegri acclamata all'Allianz Stadium uno striscione per mille punti sui fischi invece niente poi abbiamo l'editoriale di Zazzaroni la Juve tra presente e futuro dell'11 marzo quindi dopo il pareggio con l'Atalanta la Juve uno come Cup Miners non ce l'ha vorrebbe averlo presto ma per il momento deve accontentarsi di sognarlo possibilmente inseguirlo e talvolta subirlo la Juve è un centrocampista che guarda avanti di quelli che muovono il gioco sentono la porta e all'occorrenza risolvono le partite lo desidera da tempo ne ha avuti tanti in passato da qualche tempo è però costretto a fare con quel che ha ovvero con specialisti tecnicamente ordinari specie quando manca Rabiot è un settore inferiore a quello di molte concorrenti anche dell'Atalanta quindi centrocampo della Juventus inferiore a quello dell'Atalanta quando manca Rabiot i giocatori che Rabiot voglio dire che grande stagione sta facendo gli altri giocatori sono tecnicamente ordinari quindi qual è il problema dopo un pareggio mancano i giocatori Seimold Zazzaroni Allegri non sarà il guru del calcio ottimista o propositivo non sarà il guru cioè proprio ma di poco ma quando il cuore del gioco batte con i colpi di Locatelli Meccani Cambiaso Miretti Eileen Junior gli scompensi e gli errori risultano una costante Ederson Pasalic De Ketelari e Kukmeiner sono di un'altra pasta in sfido chiunque a sostenere il contrario no no ma infatti hai ragione Zazzaroni il problema è la causa di questa cosa la causa è Allegri da una parte e Casperini dall'altra parte ora gli juventini hanno dato diritto di cittadinanza juventina a gente come Zazzaroni che non ha fatto altro per anni che insultare i giocatori della Juventus in questo modo perché questa è una mancanza di rispetto nei confronti dei giocatori e quindi della dirigenza e quindi della società complimenti ai tifosi Fino a dicembre la Juve ha retto alla grande grazie a una straordinaria attenzione difensiva e alla stessa aggressività che ieri ha espresso nei primi 20 minuti della ripresa la fase in cui è riuscita prima a pareggiare e poi a trovare il vantaggio che tuttavia è durato un istante la coperta è troppo corta se resta bassa la Juve concede il minimo la stessa cosa leggiamo su tutto sport si mettono d'accordo la Juve concede il minimo risulta intenzionalmente passiva e prende i punti in contropiede prende i punti in contropiede complicando spesso la vita agli attaccanti in particolare a Vlauch se al contrario alza il baricentro e gioca sul recupero e sul palleggio funzionale finisce per scoprirsi proprio come le accade da settimane quindi ci sarà un problema di allenatore evidentemente finisce questo editoriale con quando sceglie la manovra il punto debole della squadra è in particolare la precisione dei passaggi e in questo Locatelli il menore de jeu ha naturalmente delle responsabilità mi piace lui ma non Allegri mi piaceva molto più da interno che da centrale ma l'alternativa a disposizione di Allegri si chiama Nicolussi Caviglia pochissima esperienza a certe quote non lo fa mai giocare poi però vediamo il Barcellona con i 2007 passa il turno di Champions dopo aver visto i numeri della semestrale mi rendo conto che alla Juve alla Juve serva come il pane alla Juve serva un messaggio in codice come il pane secondo me questa frase sono dei messaggi in codice la parola servo serva il pane tanto la qualificazione alla Super Champions quanto quella al Mondiale per Club sempre che l'invito giustifichi economicamente la partecipazione a fine campionale per attrezzare una squadra in grado di competere nei tornei continentali per Top Club sono infatti necessarie risorse importanti dal campo non possono bastare gli aumenti di capitale dell'azionista uno che comunque a differenza degli altri i soldi ce li mette ecco quindi servono investimenti e ancora come anche come anche Tutto Sport d'altra parte lo stesso editore anche Corriere dello Sport sceglie la stessa foto per dire che la Juve andrà al Mondiale per Club andiamo su Gazzetta dove troviamo come accennavo prima il flop degli esterni servono altri esterni dopo il flop UEA l'involuzione di Kostic Juve si sono ristrette le fasce al Maradona il primo è subentrato al 66 il serbo il peggior bianconero per media voto dell'ultimo periodo è rimasto in panchina le possibili scelte tattiche alternative le prospettive di mercato andiamo sul mercato non è che cerchiamo di migliorare i giocatori che ci sono o di dare le responsabilità a chi ce le ha cioè l'allenatore Cornacchia cosa ci dice invece sempre su Gazzetta secondo posto Coppa Italia il futuro della Juve i 50 giorni in cui Allegri si gioca tutto domani contro l'Atalanta al via il ciclo decisivo poco tempo fa Giunto l'ha detto a tempo debito ci sederemo per programmare il futuro cioè Allegri deve ancora giocarsi tutto capite è meglio di nulla insomma il futuro di Max per tutti questi motivi prima di questi 50 giorni sarà difficile conoscere con certezza il futuro della Juventus di Allegri l'allenatore dei 5 scudetti consecutivi ha un contratto fino al 2025 ma la vigilia di Napoli ha provato a far chiarezza sulla propria posizione che sia ben chiaro a tutti a me la società non ha ancora detto nulla sul futuro un contratto fino al 2025 quando i dirigenti avranno deciso mi faranno sapere Allegri aspetta di conoscere i programmi del DT Giuntoli che pubblicamente continua a prendere tempo e rasserenare l'allenatore a tempo debito spiegato il dirigente la settimana fa ci metteremo seduti con Allegri per programmare il futuro insieme siamo molto contenti di quello che sta facendo quindi andiamo avanti senza nessun problema ma nel calcio tutto può cambiare anche in fretta la sensazione in un senso o nell'altro è che i prossimi 50 giorni saranno decisivi sono cominciati e stiamo ballando poi abbiamo anche un altro articolo sempre sulla situazione di Allegri in bilico da parte di Andrea Di Caro sorpasso e panchine Pioli mette un bullone alla sua quella di Allegri invece traballa a proposito di bulloni e di chiodi sulle bare salutiamo amarezza di Juventus TV in 7 gare il Milan ha recuperato 8 punti alla Juve che non vince più l'8 Champions pari d'oro per la Roma vediamo cosa dice crollo il recupero Milan ha recuperato 8 punti nelle ultime 7 partite alla Juventus dei Pioli out di Pioli contestato dai tifosi anche giustamente con un gioco assolutamente inaccettabile approfittando della crisi di risultati dei bianconeri che ne hanno raccolti solo 6 contro i 14 dei rossoneri il pari di oggi con una formazione priva di Vlau e Rabiot contro una squadra forte come l'Atalanta non è il risultato così negativo ma è la striscia a certificare il momento nero di Allegri che ha perso in queste 7 gare 15 punti rispetto all'Inter si è passati da possibili rivali Scudetto a terzi in classifica staccati 17 punti un vero crollo Max ci tiene a ricordare che l'obiettivo della società inizio stagione era tornare in Champions League ma forse sbaglia in una giornata come quella di ieri a sottolineare di aver guadagnato un punto sulla quinta forse sbaglia quinta e aver lasciato l'Atalanta a meno 11 non sono discorsi da Juve infastidiscono i tifosi abituati a vincere e primeggiare diciamo questo senza dimenticare però che la Rosa da Juventus non è da Scudetto ed essere rimasta attaccata all'Inter per tanto tempo era parsa a tutti un'impresa ma a tutti chi però passare da meno 2 a meno 17 in meno di due mesi registra un andamento disastroso in cui la Juve ha perso sicurezza e soprattutto solidità difensiva ieri in campo in panchina c'erano troppi giovani di belle speranze ma non ancora da Juve vincente su questo deve riflettere con onestà alla società per la prossima stagione parlando chiaro riguardo ad ambizioni e obiettivi se bisogna attendere la maturazione di tanti giovani servirà tempo per tornare a vincere lo Scudetto nel frattempo però si chiede a Deleghi di alzare almeno la Coppa Italia in semifinale incontrare la Lazio dovesse fallire anche questo appuntamento e non ci fosse un controsorpasso sul Milan la conferma del tecnico diventerebbe ancora più difficile quindi dipende dal trofeo Coppa Italia tutto il resto che abbiamo detto analizzato e visto non è sufficiente no fortunatamente abbiamo quasi finito abbiamo Albanese che fa una buona disamina tra fischi e striscioni su Gazzetta dello Sport il Corbera Allegri e poi i fischi a favore o contro con chi stanno i tifosi Juve prima dell'Atalanta la testimonianza di affetto per il tecnico della Curva Sud poi i mugugni per l'andamento della partita mentre sui social torna in tendenza Allegri out vediamo un estratto i fischi al termine del primo tempo sono arrivati da quasi tutto lo stadio tanto da spingere Allegri a fare quasi un appello nel post partita i fischi non mi hanno dato fastidio ai ragazzi però non si può riproverare niente ha detto il tecnico di conferenza stampa questo è un momento difficile perché abbiamo fatto meno punti di quanto ci aspettavamo l'impegno c'è sempre stato e da qui alla fine c'è bisogno di tutti anche dello stadio giocare in Champions il prossimo anno è un bene per tutti per noi come per voi e questa è una squadra del cuore quindi ha bisogno di sostegno è una squadra di cuore mentre sull'omaggio per lui da parte dei tifosi della Curva Sud ha detto che sinceramente fa piacere perché vuol dire che i tifosi riconoscono il lavoro i tifosi della Curva nota del redattore hanno aiutato la squadra nel momento di difficoltà sui social invece la percezione di sostegno all'allenatore della Juve è decisamente più lontana quasi inesistente con l'hashtag Allegri Out che è tornato in tendenza come spesso succede dopo un risultato non positivo e allora andiamo a vedere un piccolissimo segmento striscione fischi sullo striscione tre ritagli Juventus-Atalanta Cori e striscione per Allegri immenso max ma non tutti sono d'accordo dice il bianconero mentre su calciomercato.com Juventus la curva si schiera con Allegri Cori e striscione solo tu mille più immenso max e infine gol.com Cori e uno striscione per Allegri da parte dei tifosi della Juventus immenso mentre sulla contestazione diciamo sui fischi ho trovato su Juventus-News24.com Juve-Atalanta bianconeri sotto lo stadium non perdona fischi per la squadra di Allegri per la squadra di Allegri su calciomercato.com un'analisi del giorno dopo Juventus crisi di risultati e fischi dei tifosi allontanano Allegri Tiago Motta in pole davanti agli ex Conte Zidane e di nuovo gol.com con una evidentemente un'interpretazione un po' diversa rispetto al discorso striscione Juventus-Atalanta fischi assordanti all'uscita dal campo i tifosi fanno sentire la voce per due volte la Juventus continua a perdere i punti di campionato superata dal Milan i tifosi riempiono di fischi la squadra di Allegri allo stadio quindi striscione ovviamente era per Allegri però i fischi erano non erano inequivocabilmente per Allegri ma forse per la squadra poi abbiamo il segmento chiudiamo con Zazzaroni l'ultimo è proprio Zazzaroni ma abbiamo un segmento Sabatini Sabatini come riporta Juve News sta con Allegri Sabatini sta con Allegri sono sorpreso non dormirò stanotte non può essere paragonato ad altri Sandro Sabatini il giornalista ha detto la sua sulla Juventus lo vediamo anche ancora nel dettaglio in un altro ritaglio di tutto Juve mi sembra che sia comunque abbiamo questo ritaglio ospite a Pressing Sabatini se Allegri ha svalutato Locatelli si può dire che ha fatto l'opposto con altri dice si parla di un centrocampista svalutato da Allegri Locatelli rispetto a quando la Juventus l'ha acquistato ma allo stesso tempo grazie ad Allegri adesso Meccanio Cambiaso quanto valgono Milik o Iling se per l'Atalanta è giusto parlare degli otto anni di Gasperini sarebbe corretto confrontarli con gli otto anni di Allegri a Torino considerando anche le pressioni derivanti dal fatto di allenare una squadra grande rispetto ad un'altra meno grande insomma Sabatini sarebbe neanche da leggere e commentare ma sono gli ultimi passaggi poi lo getteremo nel cestino nel dimenticatoio Sabatini Caressa Zazzaroni Capuano ed anche chi ho dimenticato Capuano Caressa Zazzaroni Sabatini e Vaciaco non potevo dimenticare Vaciaco ma abbiamo appunto venito c'è anche l'editoriale di Sabatini su calciomercato.com un po' disperato questo editoriale dopo Juventus Atalanta 2-2 Juventus meglio di Atalanta e Napoli ma ai giochisti contro la Liga interessa solo il risultato poverino c'è anche il video guardatelo è un po' provato Juventus Atalanta 2-2 va contro luoghi comuni e frasi fatte cioè la cosiddetta narrazione che accompagna le due squadre i due allenatori Allegri Gasperini la Juventus ha giocato meglio meglio molto più all'attacco meglio ma con meno precisione nelle conclusioni l'Atalanta si è difesa bene sfruttando con puntualità e cinismo due delle tre occasioni da gol offerte dagli errori difensivi dei bianconeri Coop Miners migliora in campo non solo per la doppietta chiesa finalmente in forma europea a Faffalice Spalletti e ha ottimi segnali anche da Cambiaso e Scamacca che sinceramente non si è capito perché si è uscito dopo un'ora il pareggio alla fine costa un posto alla Juve che diventa terza dunque scende in classifica pur crescendo nelle prestazioni perché è doveroso anche a costo di scontrarsi con la narrazione comune segnalare che sia domenica scorsa che a Napoli che stavolta segnalare che sia domenica scorsa che a Napoli che stavolta con l'Atalanta che sia domenica scorsa a Napoli ho letto male io che stavolta con l'Atalanta la squadra sta migliorando nei singoli e nel collettivo e va detto anche a costo di sfidare i commenti preconcetti o superficiali quelli che parlano di gioco e poi guardano solo i risultati detto da chi ha sempre guardato solo i risultati di gioco non si doveva mai parlare i risultati di Allegri erano l'unica cosa che contava adesso che non arrivano i risultati si deve parlare di gioco ma era prevedibile ancora Sabatini Juventus in miglioramento prestazioni contro Atalanta e Napoli confortanti e quindi in effetti va a riprendere però questo l'ha detto anche a Sport Mediaset quindi non è tanto l'editoriale di calciomercato.com è una riduzione della stessa cosa io la Juventus la vedo in miglioramento se dobbiamo giudicare solo il risultato tanto vale accendere il televideo cioè quello che ho detto io per anni invece sulle prestazioni nelle ultime due partite per me sono state confortanti contro il Napoli ha creato 7-8 occasioni a concretizzandone 0 perché il tiro di Chiesa è un tiro da fuori contro l'Atalanta ha creato molto ma raccogliendo poco compreso Chiesa che è stato il migliore in campo ma non è stato molto preciso quindi adesso si deve parlare di prestazioni chiudiamo con Zazzaroni a Corriere dello Sport ripreso in un'intervista non so quale ripreso da Juventus News24.com da qualche tempo è costretto a fare con quel che ha la Juventus ovvero con specialisti tecnicamente ordinari e un settore inferiore a quell'opera questo in effetti potevo anche evitare di metterlo vabbè ho letto Zazzaroni pensavo che fosse un intervento di qualche ospitata invece è un ritaglio dello stesso editoriale che abbiamo già visto prima e allora chiudiamo e vi saluto abbiamo battuto qualche altro record di minutaggio manderò poi il dato definitivo a Marco di Juventus TV così aggiorna il grafico della correlazione tra la durata dei miei video di propaganda la distanza in classifica della Juventus dal primo posto e la distanza in classifica della Juventus dal quinto posto perché sta succedendo qualcosa di incredibile vi saluto vi ringrazio buona visione anche dei precedenti episodi e poi faremo magari qualche estratto grazie per la pazienza grazie per la fiducia ci vediamo molto presto e per il calcio voglio un allenatore grazie per la fiducia